ciao ragazzi eccoci qua con la seconda parte di atelier sophie 2 e niente sono senza webcam perché purtroppo questa settimana sono stata un pochettino male e sono un po devastata quindi ho deciso di fare qualche video insomma commentandolo infatti purtroppo non sto facendo nemmeno live in questi giorni e va bene allora ho aggiornato il gioco ok ci sono le novità un nuovo costume per sophie posso adesso selezionare la difficoltà legendary sarebbe una difficoltà maggiore rispetto ad hard ok nuove missioni per i parti nuove abilità abbiamo sbloccato il photo mode e anche un altro costume ancora per sophie quindi abbiamo confie casual e poi house uniform che sarebbe la protagonista di cosetto 2 di blue reflection 2 e sapete cosa vi dico che ovviamente noi subito andiamo a vedere questi bellissimi costumi allora sophie abbiamo confie che il costume di rai del primo atelier rai molto carino questo costumi mi piace rispetto al secondo che troppo pacchiano praticamente un pugno nell'occhio e poi uniforme di oddio che carina così sophie però 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 ragazzi questo best outfit ever mi dispiace io ve voglio bene ma 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 terrò quello che già ho grazie ecco e tecmo però insomma preferisco questo guarda allontanare la telecamera ok non ci gioco da una settimana praticamente da quando ho fatto il primo video amici avete andare da qualche parte go to the crystal sparkle pavilion ok è in piazza se non sbaglio si ok qui c'è lì ci sarà l'acqua da raccogliere no va bene ancora io non ho la possibilità di teletrasportarmi dappertutto quindi oddio ma sono gli stessi fiori la stessa roba che ho visto in rai dovrebbe essere un po' diverso però gli ingredienti e invece va bene andavo anche a provare questo nuovo controller perché non lo so io ho spedito il mio a sony perché aveva problemi di drift con l'analogico sinistro me ne è arrivato un altro ovviamente non nuovo perché sono spilorci ma non ho ricondizionato non lo so ogni tanto vedo vedo sophie fare qualcosa non lo so anziché andare in dritto vedo che sbanda vabbè vedremo vabbè vedremo ho visto comunque che ci sono delle nuove espressioni facciali per per sophie insomma penso anche per gli altri già nel primo episodio me ne sono accorta oddio chi è che carina no 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 ok le stiamo riassumendo un pochettino la situazione 知道 live o ok quindi lei è la proprietaria di questo locale va bene ti chiameremo ti chiameremo Cathy Catrina c'è un po' femminile niente nemmeno lei mi ha sentito nulla della nostra placta oh quindi possiamo in qualche modo incontrare Elvira e chi è? la prima persona ad aver incontrato Elvira è la leader di Roitel Ramizel ah quindi Ramizel è l'unica che può far visita e parlare con la Dea Elvira quando le pare insomma ogni volta che vuole lo sapevo cioè io mi sono tenuta alla larga dagli spoiler però questa Ramizel praticamente ha lo stesso nome della nonna di Sofie guarda caso però su nonna era anche un'alchimista questa Ramizel non mi sembra un'alchimista in un momento non è incinta ah avevo un incarico ma mi sa che se ne è dimenticato era anche urgente apparentemente qua sicuramente ci presenteranno gli incarichi il fatto che cosa è che cosa vuoi? ci sono un paese di cose che ci sono che si sono iniziate a un'occhiazza ci sono stati che ci sono stati ci sono stati che hanno chiamato e raccogliere ho credito, la nostra magia è necessaria e questo è quello che vuoi? è quello che vuoi? è quello che vuoi? Adesso ci faremo carico Di tutte le missioni Delle persone Tutte le richieste Non è molto affidabile Almeno però adesso Eh lui se n'è andato Ma lascia dei fatti Già lo sappiamo A dire il vero Tutorial Yes Scrippiamo Questo lo sappiamo già Sì questa è la nostra Platta da giovane Perché usa praticamente Le stesse armi Più o meno Ok prima di Di aiutare l'Earth Andiamo direttamente Non posso Allora lei Sì Sì Ma pure lei è una minnasae noto va bene no voglio capire se posso se posso insomma finire le richieste dappertutto devo comunque tornare qua in missione non posso prenderne altre no too bad ok allora mi sa che questo controller ha lo stesso problema di quello che avevo prima io bello cioè io adesso cosa vorrei fare dovrei chiamare sony di nuovo e dirgli che mi hanno non mi hanno risolto il problema mi hanno cambiato il codice dietro e mi hanno rimandato lo stesso controller perché ha lo stesso difetto del mio va bene bello guarda sta facendo tutto da solo io non sto toccando nulla bello oh c'è la farfallina no ma devo la farfalla dire il vero ma va bene mi sa che mi toccherà anche cambiare controller allora non è che vi è già togli oggetti cross cut ma facciamo un semplice attacco tanto se non posso così non posso prendere le farfalline non ho il retino ovviamente allora io posso andare sia giù che su quindi andrò vediamo un po' di roba cosa è essere sto robo però io vorrei andare all'atelier non posso ancora è tutto the room sì ok perché mi conviene prima di andare a fare qualcosa di affrontare qualche mostro mi conviene mettere qualche oggettino non vedo non ho un kaiser mi stai dicendo allora sintetizziamo va yes yes allora facciamo e infatti non ho niente per questo non ho è di fire non un kaiser non penso che è infatti ah ma io ma io scusate scusate io qui ho sbagliato perché non avevo visto questo non posso flippare però potrei fare il double cioè io già sto qui però c'è quello e poi c'è questo qui forse posso vincarli prima di fare così mettiamo questo qui questo qui questo qui mi sa che di più non è che posso fare magari per fare un oggettino del tavolo vabbè dai facciamo a caso perché tanto non posso fare niente di buono ok però per tutto il resto mi sa che non ho ingredienti poi facciamo equipaggiamento e mettiamo qui ok però non ho niente nemmeno per curarmi mi sembra strano che non posso fare niente per curarmi andiamo forse non ho controllato bene use no in genere la prima cosa che ti fanno fare è qualcosa per curarti a suo giro invece la bomba ora io dico non posso si vede che non gioco da eoni vabbè andiamoci qui e e quindi si vabbè 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 andiamo direttamente vediamo che c'è qua non ce l'abbiamo dov'è il nostro obiettivo? adesso non voglio affrontare voglio andare direttamente anzi prima di andare direttamente dal dal boss o dal nemico che ci interessa comunque veramente stronzi quelli di Sony a rimandarmi il controller con la scocca differente però è un fastidio che non posso spiegare a parole perché inizierei ad insultare eh certo io non credo vediamo se ho due fungatti vengato ecco qui ok ma che dici? possiamo affrontarlo riuscire a mantenere il sangue freddo anche sotto pressione proprio come Plakta perché è Plakta? sarò più giovane ah voglio fare uno spin shot eh spiegato nel support guard ok 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 Twins e Twin Actions Ah che bello Ok Twin, Alet, Forza e Tross Cat e Alman Ah, pensavo poi c'è qualcosa di speciale alla fine Ok Ma è vero! Noi sono inizio! E' vero! Ok 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 Ah no, dimmi Ok Mi è ricordo un pochettino Atelier Scialli Oppure Escanloidi Vabbè io gli ritorno indietro Allora E possiamo Ma siamo sicuri che non mi fa Perché non mi ricordo se la volta scorsa Ho sbloccato la possibilità Di andare altrove No Vabbè Col teletrasporto intendo Follow sprint change map Con L1 No Full map E no non mi fa Vabbè Andiamo Di Grazie a tutti 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 Ok quindi Dobbiamo attivare con le pietre Per poterci teletrasportare Istantaneamente poi quando vogliamo In quell'area Bello Quindi dobbiamo sempre ricordarci Di toccarle Va bene Voglio vedere Mi dirai mi zelle là Però io prima vorrei Ad esempio se io voglio andare all'atelier Faccio così Ok Perché voglio vedere se posso sintetizzare qualcos'altro Ovviamente no Che facciamo Abbiamo ingredienti un po' de merda Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo sicuri che non vedo Ah non mi manca Mi manca quello Se faccio equipaggiamento Eh guarda un po' Che ti ho fatto Vabbè Adesso andiamo a trovare Ramizel Brighifield Non era qui che doveva mandare Let's go Oh Of course Recipe ideas Come succedeva Praticamente in atelier Sofi Ecco Facendo determinate azioni Poi Sofi Traeva ispirazione E quindi Riusciva a creare Delle nuove robette Come quello vecchio Come quello vecchio Ok Ok Va benissimo Che diceva Andiamo a vedere Recipe ideas Ringrazio 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 queste gialle con il contorno giallo dicevano che erano importanti no questi qua ma quello è quello che ho già imparato e poi dicevo che c'erano poi che gli ho raccomandati ma non ne vedo ma sono un coniglietto voraccio un po' solo dove stiamo così roba nuova mothcloth 뭐 ah ah come è follo come è follo Foto mode zoom più di così non si può vedere Non posso mettere gli altri personaggi Ah, character Ok, voglio mettere un buradetta Ok, facciamo... Ah, ho sbagliato Change the command Ok Così Troppo lontana La telecamera Ok 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 Facciamo twin action Perché solo metto l'attacco Ok Double impact Force grades Diciamo che è esagerato Ok Ok Lì c'è C'è uno scrigno Mi manca No, red flower Blue flower E blue flower Credo Questo è attivato No No Pe Teyan Teyan Mata Hackeen E' questo E' questo E' questo E' questo E' questo E' questo Tutto E' questo E' questo Ah, non posso Con la fionda Hanno aggiunto la fionda Vediamo che c'è là Non ti preoccupare Non ti preoccupare Tutto a posto Di che ti spaventi Basta che non sono ragni Vediamo che ci sono red Yes Ok Qua Spacco tutto Che ne abbiamo bisogno Niente Questo non posso farlo Allora Io direi di Mettere la mappa Io direi se riesco Perché vedo che c'è Qualcosa Che forse non mi fa Andare a raccogliere Il tesoro Però Meglio provare Che non si sa mai Metti che ce la faccio E invece C'è sta specie di Chissà forse poi un giorno Potremmo attivare Aprire sti portoni Va bene Allora andiamo ad attivare Gli altri cosettini E poi andiamo Nell'altra sezione Della mappa Perché vorrei Perlomeno incontrare D'Amziel Oh ecco Eccolo Blue Flower Dai Misardi Lì mi ci vuole sempre Ma come cacchio si chiama lì? Comunque Lì mi ci vuole sempre la falce Ma come cacchio si chiama lì? Comunque Lì mi ci vuole sempre la falce Mi manca Mi manca Un cristallino Ma non mi interessa Al momento Vorrei prendere della legna ancora Quindi dobbiamo un attimo La raccogliere Oh Roba nuova Attenzione Precious Vediamo se tutto Sì comunque sono gli ingredienti che si trovano in Atelier Ryzer a dire il vero Io non le ricordo queste cose in Sofi Comunque forse sì Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì andiamo avanti questo è attivato raccogliamo 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 tutto dove devo andare? sempre io ci vado direttamente perché non posso fare granché altro per adesso tanto non ho nemmeno tutti gli attrezzi ecco sicuramente abbiamo raggiunto near forest la foresta vicina la foresta della porta accanto sta piovendo sta piovendo ah qui piove sempre adesso ci inzuppiamo ma si cavoli ma chi è cosetta? forse la so andiamo a incontrarla perché sono veramente molto 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 curiosa ovviamente vediamo che c'è qua c'è uno scrigno ingot bug questo è nuovo questo è nuovo attenzione mai visto prima almeno qualcosa di nuovo ce l'hanno inserito c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' lo so che stiamo skippando tutti i nemici però al momento è meglio così qui c'è la zucca ovviamente raccogliamo l'altro Gader, le uova Le fragoline di bosco Mi sa che ancora non è possibile Perché c'è la possibilità, se non sbaglio In questo gioco di poter cambiare Il meteo a piacimento E come ha fatto lei a passare Se è il ponte inagibile Comunque non c'è il ponte Eh appunto, se noi non possiamo farlo Sicuramente non ha potuto non con lei Il ponte inagibile Ci sono Of course Ah quindi Ramizel la sa usare Ecco come lei è riuscita a passare Ora non si prendono una broncopolmonita Va bene Quindi dobbiamo tornare in città Adesso non possiamo utilizzare questi per cambiare il tempo Però visto che ci sono a questo punto Io farei A questo punto affronterei qualche nemico Prima di andare Così Giusto persfizio Soprima di tutti i nemici Scusate No quello mi sa che è troppo forte Per noi adesso Ma questo funghetto ce lo facciamo Ok allora Minchia 235 Display di me action R1 Ce l'hanno tutti con aletta No non è vero E allora Io posso utilizzare gli oggetti Ah scusate Ok 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 35 ma chissà se riesco a batterlo così ok c'è quello pure blu e c'è anche una merdosa qui in là quindi ci facciamo questo qui qui in action con lei va bene eeeh skill the epoi this one eeeh skill the epoi this one mushroom powder ok volevo andare anche ad affrontare la merdusetta lì ah facciamo così ma possiamo per tornare a casa in total e l'ho sbagliato vabbè mastigato eeeh ok storm cluster l'ho sbagliato l'ho sbagliato non fai questo mi devosto punigelli ok possiamo anche tornare qui andiamo Sparkle è qui dietro il bancone sta leggendo ma altri quattro anelli no eh mi piace Katy è totale di me eh veramente abbiamo bisogno di un consiglio ah quindi è una cosa che sanno fare tutti che Come diceva, come stanno usando l'amore... Puoi essere cambiato. Questo piatto si serve in un po' di un'escalte di un'azienda speciale. Alla, come dicevo! Ma... ma... ma che cosa si... Mi sbaglio. Quindi, dove sono dove sono state che le regalare il mondo? Ah, non lo possono fare tutti, praticamente solamente alcune persone hanno il permesso di utilizzare, quindi tenere questi oggetti, di possedere questi oggetti. Mi direi che è lui? Uno per la pioggia e uno per il sole, no? Dai, prestaci, lì! Mi aspetta un attimo, probabilmente queste cose vogliono più di me. Bello. Ah, hanno bisogno di un certo potere speciale per poter funzionare. Proprio adesso sono scariche, praticamente, queste pietre, queste cose. E magari riusciremo noi a ricaricarle? Ah, quindi anche Ramizel. Kimis è sicuramente la nonna di Sophie. Anche perché le assomiglia tantissimo. Esatto. Ma tu ti dimentichi tutto però, Aletta. Oh, veramente sono Anna, che bello. Ramizel, Erl e Cosetta, adesso è un nome da nubile. Esatto, sono sue nipote. Che bella sta cosa. Eh, per adesso. Oh, oddio. Mi sto muovendo sulla sedia, sembra che sto facendo puzzette. Ma mi assicuro di no. Ti ho sentito il rumore. È bella, non vedo l'ora di incontrarla. Allora zu Come se voli. Grazie. ...dialmente non è inizia l'attura di questo caso. Oh, d'accordo. Mi ha fatto un'amica ancora che non conosco la nostra faccia della Lamiselle, anche se... ...e questo non è un'accentura che vuole accettare. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ...donti che gli uomini della scettura, potete di potere di potere, direi per esempio? Tranquillo sono un genio Sono un attimista schillata Oddio Ravita sarà un membro fisso In prima linea Del mio party Bellissimo comunque lei Sì siamo già stati da Pirca Oh no Mi sa di no E andiamo da Pirca Vabbè non andiamo da Pirca Sicuramente ci venderà qualche libro Blupuni Possiamo farlo Non c'è il tempo vero No Ci sono anche le storielle Craft Vabbè lo facciamo No ma io voglio sorda Non mi interessa 1400 call addirittura Zettel ma ancora non riesco a fare Zettel Sotti ancora non riesco Qua sei il boss Quindi no intanto Qua se posso reportarlo Facciamo By quality Così gli diamo quelli più scarsi Ovviamente Arigato Questo anche Due Uno e due Non ce l'ho ancora Quattro addirittura Tutti io devo da Però sono 715 sorda Che fai non glieli dai Reputation Ancora sono Scarset 1400 Ma Non posso Non quello E andiamo al negozietto Così poi andiamo all'atariere Sintetizziamo E chiudiamo Questa è il negozio Sì L'emporio di Pirca Ma ci siamo già Ma io non sapevo Che era lei Cioè Quella che abbiamo incontrato All'inizio del gioco Ci siamo già state L'empori in realtà Però non formalmente Quindi lei va anche A procurarsi La roba Da sola E stessa in persona Ma dai Sicuramente L'antenata di Cornelia Era Cornelia Non mi ricordo Solo che Cornelia Ogni volta che Lei duplicava gli oggetti E quando lo faceva Diventava più piccolina O almeno così diceva Doveva bere del latte Ecco pure lei Molto utile Esatto Esatto Cori Ma io ve l'avevo detto Che ricordava Cornelia Anche perché Allo stesso fermacapelli E se succedere Apunto E se succedere 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 Tutto a posto, tranquilla, so già come funziona. Ah, sì? Ok. Va bene. Sì, penso che userò l'autore stock, fin da subito. Ok, già ho l'autore stock. No, allora, bye! No, io ho... Ma non ha libri, per attimia, eh? A queste cosucce qua, ma io mi tarrei i soldi, per adesso. Ok. Molto very good. Oh, magari se di se ci regala qualcosa. No, non c'è dato niente. Allora, torniamo all'atelier. Ah, ma c'erano dei puntini, quindi ci sono delle cose da fare da qualche altra parte. Tranquilla, Plakta, chiamo dei geni. Oh, ok. Per tutto. Per essere, perché non so, per scambiare il molto più szybito, per esempio. Sì, veramente. Quindi, quella che di grado, è importante. Ok. Sì. È una vecaria famiglia. che bellino ok che belli commentini che ci sono sotto I'm genius eh però cosa volevo fare ecco qua degli eventini prima andiamo a fare questi eventi poi facciamo qualche synthesizing qualche sintesi qualche creazione avete capito Eh certo Guarda il pollice verde Non l'avrei detto Ok perché per adesso Questo posto È sempre soleggiato a quanto pare Allora Oh che ci ha dato Bellon fruit Grazie Allora vediamo dove è altro Vediamo cos'altro succede Dov'è la tizia Anche lei ha un negozietto mi sa Ma ce l'ha detto mi pare Non mi ricordo Alessandriso ma quindi vi fate concorrenza ma quindi vi fate concorrenza vediamo vediamo grassoni è la prima volta che lo vedo ci stanno diciamo dei cosetti carini delle proprietà dei tratti intanto ne prendiamo qualcuno anche un paio di questi grazie letta ok poi cos'altro all'emporio di Pyrrha e dorme lei secondo me è stanca per la duplicazione sembra stancherrima no Va bene È l'unica che sa farlo Quindi sicuramente non perderà i clienti Per questo motivo Ah dice Ti farò rimpicciolire E abusare di questi poteri E quanto pare no Però non mi risponde Diciamo che ha un pochettino sorvolato Sulla cosa Faremo tanti affari insieme Voglio imparare anche lei A fare un po' di alchimia Va bene Ma lei è sempre Puni Candy Eh no The Dream 3 Un evento di Sophie Non ho capito Qualcosa lì Effettivamente Ok Sono ovviamente Diciamo per scoprire Come Ricaricare Quegli oggetti Ok Quindi questa è fatta Near Forest Che cacchio è? Ma non mi dice Cosa c'è Ah penso sia La roba da fare Poi Vabbè Allora io Torno nella seriera E chiudiamo per oggi Così la prossima volta Sintetizziamo Il cosetto Il cosetto per cambiare Il meteo Magari nel frattempo Farò qualcosina anche io Per fatti miei Insomma Per non stare sempre qui Tre ore A sintetizzare Grazie Per la compagnia Insomma Per aver guardato il video E alla prossima Ciao bella